La prima emozione che hai provato? Non si può descrivere Per te? Uguale Ora mille Terzo posto, secondo posto, primo posto Lui è il nostro Mr. Teverola 2013 Ragazzi noi restiamo in contatto così Contatto Amici di contatto e con grande piacere Oltre ad avere il grande Tony Oliva Ma abbiamo il vincitore di Mr. Teverola 2013 Un anno entri come categoria, cari Tony Oliva, da qualche anno E invece la Miss Teverola 2013 Che è ormai all'undicesima edizione Quindi insomma sono passati tanti anni Presentiamoli Marika Caputo Ciao Marika, vincitrice, complimenti Grazie Sei emozionata? Tantissimo Ecco, la prima cosa che hai pensato quando hanno detto il tuo nome Hanno pronunciato il tuo nome? Non ho pensato a niente Scioccata, ho detto impossibile Cosa fai nella vita? Studio Studi? Cosa studi? Vecchio scientifico Ecco, un'aspettativa, un sogno che hai nel cassetto Vuoi dirlo a tutti gli amici di contatto? Il mio sogno? Sì, un sogno nel cassetto Apriamo sto cassetto e guardiamo sto sogno Diventare una psicologa Oh, che brava Hai capito? Vuole diventare una psicologa la nostra Marika vincitrice Adesso però tu ci presenti invece il mister Una categoria alla quale tu tieni particolarmente Mr. Teverola 2013 Che è il nostro caputo ma non so parenti No, non so parenti Antonio Caputo Sì, per Antonio Comunque ha vinto Perché la giuria ha detto che è il più bello E quindi ha vinto lui Però questa è una bella edizione Perché io ci credo a questa cosa Perché come sono arrivato all'undicesimo Con le miss E così vorrei andare avanti con loro Perché ho visto che l'anno scorso Erano più di 30 ragazzi Ho fatto la selezione Erano 10 Adesso erano 82 E ne abbiamo scelti 13 Quindi significa che è stato un bel successo L'anno scorso E spero che sarà ancora così Ma non è solo un grande successo Perché sono davvero tutti belli Antonio Allora Questo grande momento Come lo stai vivendo? Molto emozionato Non mi aspettavo tutto ciò È stata una bella esperienza Ringrazio Tony E tutti quanti L'ho chiesto anche a lei Unica domanda Un sogno nel cassetto Apriamo questo cassetto E tiriamo fuori questo sogno Che hai? Sono tanti i sogni Però spero di sboccare Nel mondo della tv Va bene Noi ce l'auguriamo anche per te Allora ragazzi Tutti insieme Marika Caputo Antonio Caputo Tony Oliva Fabio Stil Facciamo contatto E noi ci ribecchiamo ovviamente Non solo su Contatto Television Ma anche alla prossima edizione Di Miss e Mr. Teverola 2014 Contatto Grazie a tutti 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 E' premiata la Miss Teverola 2013 E qui davanti ai nostri occhi Caro Tarcisio Ci siamo finalmente Dietro ci sono tutte le Miss Ovviamente ci ribecchiamo su Contatto L'anno prossimo per Miss e Mr. Teverola 2014 www.contattotelevision.tv E cliccate mi piace sulla pagina ufficiale Contatto Television a Napoli Ciao a tutti da Timo Suarez Per gli amici d'Arcisio E da Fabio Stil Alla prossima Ci becchiamo anche in radio Assolutamente Su Radio Ibiza ogni giorno Contatto Ciao